Mi chiamo Ezio Colanzi, ho 38 anni e non ho mai fatto niente in vita mia. Voglio scrivere un film, meglio, un film d'autore, che però incassi. Mancherebbe l'idea, ma... ...non fa niente. Per favore, per favore, mi devo concentrare. Non posso avere la gente addosso qua? Via, dai, via tu. Hai ragione. Vai, ti taglio dal film, sparisce. Siamo a quello che si dice una famiglia felice. Vincenzo, io ne voglio sposare. Ma se, vedi, non ci si sposa se, diciamo. E di qualcosa anche tu. Dammi quella canna che stiamo parlando. Ti tiri la su un po'. Ah, ma sei Ezio? Sa quello dell'incidente, no? Che sfiga che hai avuto. Che figa che sei. È pronto? Va, dica la vecchia. Veramente sarebbe la mia mamma. Ecco il primo. Tagliolini, gamberi e funghi. È completamente andata. Ma tu, chi sei? Non ci stai buono? Non ti preoccupare, sento l'odore del mio. E il tuo? Il cane, del mio cane, ho un cane, si chiama Gianni. Ecco il primo. Ho fatto i tagliolini, gamberi e funghi. Mi era sembrato di capire che ero io la protagonista femminile, ma la storia della cinese, ma che c'entra? No, 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 no. Potrei andare avanti a raccontare questa storia, ma preferisco chiudere qui. Chiudere! 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 Grazie a tutti